Il rapporto non è completo. Manca di un'analisi di un lavoro di oggi, della funzione dei sindacati, dei problemi della povertà e della disuguaglianza scaturiti nel capitalismo finanziario e della grande disparità tributaria che garantisce alle multinazionali vantaggi fiscali e delusione. Manca un riferimento sulle conseguenze dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro. Senza un reddito minimo avremo milioni di poveri in più. Ma infine, come si può rilanciare l'economia europea con gli eurobondi di guerra. Crediamo in un'Europa più integrata, sociale e solidale.